Secca la smentita della prefettura di Isernia sulla presunta lettera con cui Filippo Piritore avrebbe bloccato il trasferimento di ortopedia dal Santissimo Rosario a Ferdinando Veneziale. Non c'è niente di vero, hanno affermato i dirigenti di via Kennedy. Il prefetto non è assolutamente intervenuto. È vero invece che c'è stata la richiesta di intervento inviata alla prefettura dal Comitato Santissimo Rosario per chiedere proprio a Piritore di impedire il trasferimento di ortopedia. La polemica scatenata sul trasferimento dei servizi dal Santissimo Rosario al Ferdinando Veneziale nasce dalle decisioni assunte dall'ASREM dopo la morte di un paziente deceduto durante il suo trasferimento a Isernia. Si tratta di un anziano operato a Venafro ma che mancando rianimazione al Santissimo Rosario fu trasfortato a Isernia in gravissime condizioni dove arrivò praticamente morto. Allora fu deciso che senza un reparto di rianimazione attivo non potevano più essere effettuati interventi chirurgici in anestesia a Venafro. In sostanza un depotenziamento nei fatti di ortopedia. Ma a impedire il trasferimento del servizio a Isernia ci pensò poi il TAR che bloccò tutto su richiesta del Comitato Santissimo Rosario. Lo stesso Comitato che ora ha anche ufficializzato le sue riserve su Ferdinando Veneziale che non darebbe tutte le garanzie antisismiche richieste dalla legge e quindi sarebbe completamente al di fuori della normativa. Per questo motivo il Comitato del Santissimo Rosario ha chiesto di rivedere l'intera politica di accentramento a Isernia dei servizi di chirurgia e ortopedia. Intanto il Tavolo Massicci ha di nuovo rimesso in discussione l'intero impianto del piano sanitario compreso la divisione dei servizi tra Isernia e Venafro, una sostanziale paralisi che rende ancora più difficile ogni scelta.